Ragazzi, in questa lezione andremo a svolgere quello che è il primo vero argomento storico del terzo volume e che inaugura sostanzialmente il Novecento, anche se la sua storia inizia nella seconda metà del XIX secolo o più precisamente nell'ultimo quarto dell'Ottocento. Parliamo del colonialismo. È un fenomeno storico che vide coinvolte tutte le potenze europee del tempo, Italia compresa, Inghilterra, Germania, Francia, Italia, per l'appunto Austria e la gran parte delle potenze che si affacciavano sul Mediterraneo iniziarono a aumentare la loro pressione in Asia e in Africa. Quello che fino al Cinquecento, al Seicento, si era limitato come in una conquista delle coste africane e asiatiche diventa invece sempre di più una penetrazione vera e propria degli stati e degli eserciti all'interno dei continenti. Quali sono le cause di questo fenomeno che, ripeto, si sviluppa a partire dagli anni settanta del XIX secolo? Innanzitutto, come sempre vi ho spiegato, perché tutto si spiega soprattutto con necessità economiche, è il denaro quello che muove questa ripresa di interesse nei confronti dei territori africani ed asiatici, perché c'era la necessità di nuovi mercati. Abbiamo visto che con la seconda rivoluzione industriale erano aumentati i prodotti a disposizione, ma soprattutto era aumentato il ricorso al protezionismo e quindi ciascuno Stato difendeva i propri prodotti, ma naturalmente non aveva mercati esterni dove poterli proporre proprio a causa degli alti dazi doganali che si erano stabiliti tra le nazioni. Quindi c'era la necessità di trovare nuovi mercati, quindi nuovi territori, su cui imporre i propri prodotti. E c'era anche un problema di disoccupazione legato alla demografia. Abbiamo visto come la popolazione europea in particolar modo raddoppiò in poco più di un secolo e quindi questa pressione demografica porta anche ad un aumento della disoccupazione, stante anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'automazione del lavoro stesso. Quindi nuove terre significano anche nuove possibilità di lavoro per il personale in esubero, quindi poter mandare coloni nelle terre conquistate e quindi aprire nuovi mercati per il mondo del lavoro. Quindi questa esigenza economica si sposa con questa esigenza sociale, cioè quella di controllare attraverso l'immigrazione l'incremento demografico con tutti i problemi che le sono connessi, soprattutto di ordine pubblico. Però questo si sposa anche con una nuova necessità che nasce proprio grazie o a causa del progresso della seconda rivoluzione industriale e anche dell'apertura alla democrazia o comunque a quelle forme di partecipazione attraverso le elezioni che si stavano diffondendo in tutta Europa. Ormai non c'era più l'assolutismo puro e semplice in cui il sovrano pretendeva che la sua parola fosse legge. C'erano le elezioni, anche se la base elettorale era ancora stretta, quindi i sovrani e i governi dovevano mantenere il consenso dell'opinione pubblica e questo consenso veniva mantenuto in maniera particolare eccitando il nazionalismo, ovvero l'orgoglio di appartenere a una nazione per far sì che la nazione fosse la prima fra tutte le nazioni, la più grande, la più importante. E questo si sposa anche con l'inizio delle prime teorie razziste, perché l'incontro con le popolazioni, in particolar modo africane, che avevano uno stadio di sviluppo inferiore rispetto naturalmente agli europei, dà il là ad una teoria, quella della razza superiore, cioè quella bianca, quella europea, quella occidentale, che aveva una missione civilizzatrice nei confronti degli altri popoli, cioè i bianchi, gli occidentali, andavano a portare la loro civiltà nei posti più sottosviluppati. Come vedete è qualcosa che anche in età contemporanea non si è persa con l'idea di esportare per esempio la nostra democrazia in aree del pianeta dove non c'è, perché noi crediamo che la nostra sia il migliore dei sistemi, ma non è. Questa interpretazione di inchiave razzista della evoluzione umana prende le mire anche dalla teoria di Charles Darwin, che proprio nella seconda metà del XIX secolo stava presentando la sua teoria evoluzionistica, cioè quella che spiega l'evoluzione del genere umano e generalmente di tutto gli esseri viventi sulla Terra a partire dagli organismi unicellulari fino ad arrivare all'essere umano che sarebbe la parte più alta dell'evoluzione. Ebbene, utilizzando questa teoria, molti parlavano di darwinismo sociale, cioè c'è un'evoluzione che è stata limitata per alcuni popoli, in Africa, in Asia, e per l'appunto invece molto avanzata per i popoli occidentali. Attenzione, questa è una teoria che andava molto in voga e che continua a essere in voga anche per tutto il Novecento, ma che allo stesso Darwin rifiutò in maniera categorica, rifiutò Darwin di dare il suo nome e la sua paternità ad una teoria che nulla aveva a che fare con la sua teoria evoluzionistica. Se osserviamo ancora di più dal punto di vista politico, diciamo l'evento che ha dato il là alla conquista dei nuovi territori dell'Africa fu il congresso di Berlino. Nel 1884 Otto von Bismarck, da grande politico, navigato, esperto qual era, aveva ben compreso che questi appetiti delle varie nazioni europee avrebbero portato ad un conflitto generalizzato se non ci fosse stato un tentativo o un modo di ordinare o riordinare questi desideri. Allora, Bismarck convoca nella propria capitale, quindi a Berlino, una grande conferenza di stati, tra cui parla anche l'Italia, per dare veste legale a queste nuove conquiste e soprattutto cercare di moderare gli appetiti delle singole nazioni, in maniera tale da non creare attriti. Ecco che il congresso di Berlino stabilisce alcuni principi. Innanzitutto che ogni stato avrebbe avvisato gli altri stati prima di procedere alla conquista di un nuovo territorio in particolar modo in Africa. Poi ogni stato avrebbe avuto il diritto di reclamare dinanzi alla conferenza degli altri stati per una conquista che non fosse conforme allo spiuto del trattato. E questo fu il caso, per esempio, dell'Italia, se vi ricordate, quando la Francia invase la Tunisia, che doveva essere invece una zona ad influenza italiana, perché infatti l'Africa veniva divisa secondo zone di influenza che erano riservate agli singoli stati europei. Guardate cosa successe in poco più di mezzo secolo dalla conferenza di Berlino, in cui praticamente solamente le coste erano state colonizzate dagli europei fino ad arrivare al 1914, quando tutta l'Africa, a eccezione della Liberia e dell'Etiopia, erano colonizzate dagli europei. Una situazione che, come vedete, andava a cozzare contro le tribù che ci sono, c'erano ancora lì in Africa, che non erano solo tribù primitive o semi-primitive. Ci furono numerose resistenze, soprattutto nelle tribù più bellicose, come gli Ascianti, i Mandingo, gli Zulu, ma in generale la colonizzazione avvenne in maniera rapida e soprattutto spietata da parte degli europei. Europei che, come vedete, si spartirono l'Africa in maniera del tutto diseguale. Guardate, la Francia e l'Inghilterra fanno naturalmente la parte del leone, tutta la parte occidentale, vedete, francese. L'Inghilterra invece prende la parte centro-orientale. Addirittura c'è il Belgio, che dà vita al Congo belga, il cui colonialismo assume delle caratteristiche assolutamente terribili. Tutti i territori, comunque, africani, furono riconvertiti a monoculture, cioè sradicarono quelle culture di sopravvivenza, quelle culture, scusate, di sussistenza che c'erano per sfamare i popoli, per mettere invece caffè, tè, cacao, arachidi, frutta tropicale, comunque tutte coltivazioni estese, estensive, che dovevano alimentare i mercati occidentali e non andavano certo a favore delle popolazioni, che naturalmente non vennero assolutamente toccate dall'industrializzazione, perché erano popolazioni solo da sfruttare. In Asia, invece, la situazione era un po' differente, innanzitutto perché c'erano i due grandi imperi, russo e cinese, che naturalmente mantenevano un precario equilibrio nell'Asia. Attenzione, l'impero cinese, come abbiamo visto, con la rivolta delle guerre dell'oppio alla metà del secolo XIX, aveva già dato segni di debolezza, così anche l'impero russo, che lentamente va verso il suo disfacimento, poi vedremo a inizio del Novecento cosa succederà. Comunque l'Asia era dominata, innanzitutto, dalla potenza inglese, che aveva l'India, il Pakistan, la Birmania, l'attuale Myanmar, quindi aveva la gran parte di quella che è la penisola indiana. La Francia aveva l'Indocina, vedete qui in verde, in Redietam, Laos, Cambogia, eccetera, e mantiene una sua presenza l'Olanda, che era la grande regina, prima nel corso del Seicento e del Settecento, ricordate, con la compagnia delle Indie, e si affacciano per la prima volta due nuovi imperialismi, quello americano e quello giapponese. Vi ricordate che il Giappone, con l'avvento al trono di Mitsuhito, che copia il modello prussiano in Giappone, ecco, il Giappone diventa una potenza, prima industriale e poi militare. Quindi l'Asia mantiene delle caratteristiche molto particolari all'interno di questo colonialismo. Come vedete, queste sono le principali divisioni con cui l'Asia si è spartita durante questo periodo, e ci ricordiamo, vedete, della Cina, il gigante cinese, che con la guerra dell'oppio già aveva ceduto agli occidentali la possibilità di entrare nei propri mercati, ma che soprattutto, a inizio del Novecento, una rivolta dei boxers, la borghesia contraria all'impero e all'imperatore che era ormai prono alle volontà degli europei, tentano di affrancarsi a questa presenza europea, ma purtroppo vengono sconfitti. In particolar modo, ecco, in questo periodo si sviluppa il colonialismo statunitense. Gli Stati Uniti, dopo aver risolto i problemi interni con la guerra civile, naturalmente, avevano cominciato uno sviluppo economico-industriale molto ampio di cui abbiamo parlato quando abbiamo parlato della seconda rivoluzione industriale e subito dopo iniziarono le guerre coloniali, anche americane, innanzitutto come guerre di espansione nel 1898 a Cuba e nel 1900 a Panama, dove si stava costruendo il canale che avrebbe favorito il commercio tra i due oceani, impedendo di fatto la circunnavigazione del Sud America che era lunga e che era costosa per una semplice attraversata in questo canale, ma soprattutto con la politica dei governi fantoccio. Gli Stati Uniti, cioè, soprattutto in confronti dei governi centroamericani e dell'America meridionale, si comportavano in maniera quasi padronale, facendo sì che alcuni colpi di Stato venissero finanziati dagli Stati Uniti, dei segreti statunitensi, e poi si insediassero dei governi fantoccio, cioè dei governi che rispondevano sostanzialmente alla volontà degli Stati Uniti e solo formalmente erano indipendenti. Con l'occupazione delle Filippine e delle isole Hawaii, gli Stati Uniti, all'inizio del XX secolo, iniziano la loro politica di dominio dell'Oceano Pacifico che li porterà inevitabilmente allo scontro poi con il Giappone che invece si stava espandendo da ovest verso est.